Siamo in H-Farm, CodeMotion, abbiamo qui alcuni tra i numerosi speaker della manifestazione che presentano un motore grafico per videogiochi. Di cosa si tratta? Si tratta del Volcano Engine che è un motore potremmo dire innovativo, comunque una delle poche iniziative italiane di creare un motore grafico, principalmente sarà per piattaforma PC, svilupperà per PC e potenzialmente anche per altre console, dipenderà dagli sviluppi futuri. Puntiamo principalmente sulla facilità d'uso, sul rendering e sulla qualità di esso. Inoltre, una feature particolare che non è presente in altri motori è la gestione dell'open world, di ambienti aperti, ottimizzati al massimo, come per esempio altri motori a livello internazionale non fanno. Dal punto di vista tecnologico, come è costruito il motore? Il motore è fondamentalmente formato da diverse parti che sono indipendenti fra loro, a livello architettonico possiamo dire che ci sono tante parti che lavorano tra loro ma indipendentemente. Abbiamo un motore audio, un rilevatore di collisioni, un motore di pre-rendering, un motore di rendering e un motore fisico sul quale però abbiamo fatto appoggio a un middleware esterno, ovvero che non abbiamo sviluppato noi, abbiamo fatto appoggio a NVIDIA Phyzix, che fondamentalmente è un middleware molto usato e famoso a livello mondiale anche per le sue prestazioni. Il vostro motore si può utilizzare con tutti gli ambienti? Attualmente il nostro motore può essere usato, fondamentalmente è puntato fortemente su sistemi Windows, quindi attualmente sarà disponibile solo su PC. Saranno più avanti sviluppate anche le versioni per console con le loro relative licenze, ovviamente diverse dalla licenza per PC. Ad oggi avete già qualche gioco realizzato con il vostro motore? Non ancora perché il motore è ancora in stato embrionale, nonostante siamo già arrivati a dieci mesi di sviluppo e abbiamo comunque una mini demo da poter mostrare proprio oggi. In ogni caso penso che per marzo 2013 potremmo iniziare a sviluppare giochi sopra e sarà il nostro prodotto principale che sarà Rian's World Fall Online. Grazie.